Andiamo a vedere qual è il risultato. In questo studio sono riportati di nuovo, vedete come per valutare questo tipo di errore conviene in genere valutare la prima parte dei risultati. In questo caso ci spiega, ci dice quanti sono i pazienti che sono usciti e perché sono usciti dallo studio e poi ci dice anche nella parte invece di statistical analysis, quindi nei materiali e metodi, qual è la strategia statistica che hanno usato per considerare quei drop out. Quindi in questo caso è uno studio che da questo punto di vista non ha commesso errori, è uno studio valido dal punto di vista degli attrition bias. In quest'altro abbiamo, qui vi ho dato un basso o non chiaro, nel senso che sono riportate le informazioni di quanti drop out abbiamo e il perché di questi drop out. sono riportati sempre nei risultati e anche nella figura 1 in realtà è riportato, però se noi leggiamo l'analisi statistica non abbiamo informazioni su come poi sono stati considerati questi drop out. Quindi dei drop out ce ne sono, quindi un rischio ci può essere e non abbiamo grosse informazioni su come li hanno considerati. Quindi tra i due forse darei un rischio non chiaro in questo caso. Di nuovo anche in questo caso sono riportate le informazioni sempre nei risultati, sempre nelle figure, ci danno queste informazioni e hanno messo in campo delle strategie per tenerne in considerazione e quindi abbiamo un basso rischio.